Buongiorno a tutti voi, benvenuti nella mia cucina. Oggi voglio finalmente smetterla di martoriare il povero basilico. Lo sapevate che si può realizzare uno strepitoso pesto anche con delle altre verdure? Non avete idea di quali possono essere? Niente paura, ho io la risposta, il cavolo nero. Vado a realizzare il pesto di cavolo nero, la mia versione, e credetemi quando lo rifarete, lo assaggerete, non potrete più farne a meno. Gli ingredienti sono davvero pochissimi, andiamo a vederli subito assieme. L'ingrediente principe è il cavolo nero, questa è la stagione giusta, è un cavolo invernale, quindi consumatelo adesso, prendetelo fresco e mi raccomando lavatelo e asciugatelo. Il secondo ingrediente per realizzare la mia versione è il pistacchio, questi sono tostati, prendetene una bella manciata, andiamo qui a sentimento, lasciate stare la bilancia. Altro ingrediente fondamentale è la paprika dolce che ben si addice con il cavolo nero. Poi abbiamo delle gemme di sale grosso, questo è quello rosa ma potete usare anche quello normale, uno spicchio d'aglio, olio extravergine di oliva a fiumi e dell'ottimo parmigiano reggiano già grattugiato. Presentazione fatta, andiamo subito ai procedimenti, ma prima sigla! Una volta che abbiamo lavato, asciugato per bene le foglie di cavolo, dobbiamo andare a pulirle, allora in che modo? Dobbiamo tirare via la parte interna, quella coreacea, il gambo, che non utilizziamo. Per fare questo ci agevoliamo tirando via una parte delle foglie con le mani dalla parte dell'esterno del gambo, poi afferriamo il gambo e sfiliamo via la foglia, così rimane il gambo che lo tireremo via. Utilizziamo soltanto la parte verde, quella edibile, quindi una volta che l'abbiamo pulita e messa da parte, le inseriamo dentro un contenitore e procediamo alla stessa maniera con tutte le altre foglie. Tagliamo con le mani il primo pezzo del gambo, poi afferriamo il gambo e sfiliamo via tutto. La foglia viene così facilmente da parte, il gambo, questa occasione non lo utilizziamo, quindi lo prendiamo e lo buttiamo via, in altre occasioni si potrebbero fare del brodo, ma in questa ricetta non ci occorre. Procediamo così con tutte, senza fermarci e andiamo avanti così a pulirle e a mettere nei contenitori. Dopodiché portiamo ad ebollizione con un coperchio e una pentola con dell'acqua bollente. Quando è bella calda andiamo a inserirci dentro le foglie del cavolo nero, le mettiamo tutte, non aggiungiamo il sale nell'acqua, mi raccomando in questa fase, lo faremo successivamente e dopodiché vado a inserire un coperchio affinché il bollore riprenda il prima possibile. Dal momento in cui riprendo il bollore faccio passare tre minuti non di più, poi le prendo e le scolo in acqua ghiacciata o comunque con acqua molto fredda. Questo serve per fissare il colore e mantenere la foglia bella anche visivamente e soprattutto preservare anche i valori nutritivi del cavolo nero. Una volta che abbiamo fatto questo andiamo a prelevare anche un po' di acqua di cottura, la mettiamo da parte, vedremo che poi è fondamentale. Ecco come appare poi la foglia bella colorata e brillante. Ora non ci resta che scolarle per bene, tirare via tutta l'acqua in eccesso attraverso un colino, le strezziamo anche con le mani, dobbiamo essere sicuri che l'acqua sia andata via tutta, non ci serve per fare il pesto e per fare questo mi vado ad aiutare anche con un canovaccio, quindi le asciugo bene, tiro via tutta l'acqua in eccesso e sono sicuro di aver fatto un ottimo lavoro. Dopo aver asciugato per bene il cavolo procediamo con la seconda fase. La prima cosa che faccio è prendere dei grani di sale, due, tre, diciamo che io non vado oltre i tre granelli di sale e inizio a pestarli. Sia ben inteso, si può usare tranquillamente il mini peamer e l'effetto viene più o meno uguale, anzi è ugualmente buono. Certo è che per mia esperienza riuscire a rendere una crema prima il formaggio, l'aglio e il sale e poi successivamente mettere le verdure con l'olio a mio avviso gli dà una cremosità diversa. Faccio questo movimento schiacciando e tenendolo fisso sopra il fondo in modo da poter sbriciolare completamente il sale. Fatto questo mi concentro sull'aglio, inizio a tirare via tutta la parte della camicia, via completamente, lo taglio in due. Dopodiché vado a concentrarmi sull'anima, la parte interna che è quella che risulta sempre molto più forte e anche meno digeribile. Quindi le tiro via per tutti gli spicchietti d'aglio, li metto da parte e vado a iniziare a pestarlo dentro il mortaio. Anche questo dentro, schiaccio senza pressare più di tanto e giro continuamente il mortaio e a questo punto creo una crema piano piano, man mano che giro anche il mortaio vado ad aggiungergli un po' di olio. Questo mi serve per agevolarmi nell'operazione, facendo così riesco a ottenere più facilmente una crema, quindi l'olio in questa fase è fondamentale. Vedete come riesci a ottenere una crema piuttosto fluida. Molto bene, a questo punto ci concentriamo su i pistacchi, quindi vado a pulire un po' di pistacchi dal loro guscio e li inserisco all'interno del mortaio. Una volta che ho fatto questo inizio anche qui nella fase del pestaggio. Schiaccio, schiaccio bene, inizio a triturare piano piano, piano piano e ogni qualvolta mi aiuto con l'olio. Questa è una cosa fondamentale nel pesto, purtroppo l'olio ce ne va tanto, quindi usatelo di alta qualità. Come vedete man mano che giro, inserisco dentro anche i pistacchi, io ne metto tanti, mi piace che si senta, dopodiché se abbiamo fatto un bel lavoro avremo quella crema che abbiamo visto prima, dopodiché inizio ad inserirli dentro anche il parmigiano abbondante, giro continuamente. Quando vedo che si asciuga aggiungo ancora olio e vado avanti così fino a ottenere quella che è una crema che poi andremo ad utilizzare assieme alle foglie frullate. Io questa fase la faccio in due tempi, vedete che bella crema che è venuta fuori. Ecco questa è perfetta, adesso separatamente dentro un blister vado a mettere dentro le foglie di cavolo nero, aggiungo l'olio indispensabile in questa ricetta come sempre. Ora ci viene in aiuto la tecnologia mini pinmer alla mano e inizio con il mini pinmer ad andarci dentro. Ok un paio di frullate per vedere cosa riusciamo a ottenere, dopodiché ancora olio all'interno e ci aiutiamo anche con quella fondamentale acqua di cottura che abbiamo ottenuto da parte, ecco perché era fondamentale. Andiamo a inserire dentro tutte le foglie che abbiamo, dentro ancora con il mixer, ci aiutiamo con l'acqua di cottura che abbiamo messo da parte, man mano che trituriamo poi andiamo ad aggiungere anche il sale e la paprika dolce, mi raccomando abbondante paprika dolce. Vado a inserire dentro tutto l'impasto che abbiamo ottenuto prima. Inizio a mescolare il tutto. Adesso arriviamo al momento libidine, una pioggia di paprika dolce. Con la crema la andiamo a mettere dentro un vasetto di vetro, riempiamo quasi tutto fino all'orlo, mi raccomando e dopodiché per conservarlo al meglio lo andiamo a ricoprire con l'olio. Facciamo questa operazione in modo da togliere tutto l'ossigeno all'interno. Questo contenitore così nel frigo si manterrà per 3-4 giorni e potremo utilizzarlo quando vogliamo. Ora per guarnire tutto vado a triturare un po' di pistacchi. Quindi mettiamo un po' di pistacchi dentro un trituratore, trituriamo il tutto, otteniamo questa granella d'accompagnamento. Ora non esiste video senza prova dell'assaggio, andiamo a vedere come gustare questa prelibatezza. Una fetta di pane, una abbondante cucchiaiata di pesto sopra, una manciata di granella di pistacchio sopra e a concludere un filo di olio extravergine di oliva. Ed eccolo qua! Qui la forghettina non ci vuole, andiamo a vedere come è venuto. Vediamo subito. Allora, crostone di pane tostato. Questo qui è un ottimo antipasto, ma ovviamente con questa salsa voi ci potete condire la pasta, potete fare le tagliatelle, le spaghetti, le penne, quello che volete. È davvero eccezionale, provare per credere. E vado! Questa è davvero una delizia, un modo alternativo per poter creare un pesto che non sia sempre martoriare il poverino del basilico, ma crea davvero un gusto eccezionale. Potete usare anche le mandorle, le noci, questa è la mia versione e che è quella che preferisco. Rimane davvero fresco, si sente bene, si sposa in maniera perfetta con tutti gli aromi. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e vi abbia dato qualche idea innovativa. Se vi fosse venuta voglia di replicarla, fatelo, iscrivetevi nei commenti. Se avete voglia, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima videoricetta. Ciao a tutti da Grava Felata! Ciao per le gioie! Ciao! Mamma mia! Basilico, ci rivediamo in primavera! Te saluti!